Siamo cresciuti con la paura atavica che la tecnologia possa prendere il sopravvento nelle nostre vite possa in un certo qual modo sostituirci solo controllando il nostro modo di vivere e assolutamente non voglio delegittimare questa paura che a furia di martellarci il cervello questi mass media ce l'hanno inculcata ma forse dobbiamo cominciare a vederla per quello che è una paura fantoccio creata a tavolino per distrarci dal vero punto quando si parla di tecnologia e innovazione ci sono sempre degli attori che modellano il mondo a loro piacimento con le loro regole e lo fanno in virtù di questa paura per trovare la soluzione perché loro sono sicuri quando in realtà potremmo dire che non è esattamente così occhio al mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno guardando solo quest'anno, anche solo molto banalmente due mesetti fa a inizio aprile la causa che riguardava Google Chrome e la modalità in incognito si è conclusa dando ragione a quelli che sostenevano che Google Chrome comunque tenesse traccia di quello che c'era nella modalità in incognito sapete quella che clicchi e ti dice nuova modalità in incognito e non salva niente non profila nulla ecco l'unica cosa che faceva era non salvare i cookie e la cronologia ma tutto il resto di monitoraggio restava anche perché a un occhio meno attento quando dici nessuno ti sta spiando pensi che nessuno ti stia spiando quindi neanche i provider che ti forniscono internet quindi tipo FastWeb, Vodafone e neanche i siti web su cui vai potrebbero fare questa cosa e in realtà come poi si è scoperto non è così sia Google, sia i provider quindi FastWeb, Vodafone, Team sia i siti potevano anche con la modalità in incognito tenere traccia di quello che facevi e perché è importante questa cosa? perché questo è l'esempio perfetto del gigantesco enorme problema che ha la tecnologia moderna noi siamo virtualmente al centro dell'attenzione e il punto nevralgico di questa cosa ma fattualmente siamo un insieme incredibile di dati che servono a queste grandi aziende e loro li prendono con la scusa che tengono ai nostri dati e vogliono farci vivere un'esperienza buona però loro ci tengono loro lo fanno per il nostro bene loro a volte non li raccolgono o anzi se pensi che non li raccolgono ma loro non lo dicono esplicitamente tu sei più contento perché la raccolta dei dati del nostro mondo digitale influenza anche quello analogico le nostre abitudini di comportamento le preferenze come noi vediamo una tale persona tutto si riduce a dati per l'apprendimento automatico di algoritmi e intelligenze artificiali che vengono utilizzate o utilizzati per manipolarci a vantaggio di terzi poi questa cosa la fanno un po' tutti da stati alleati a stati non alleati aziende privati insomma e tutto per lo stesso motivo voler avere una rappresentazione digitale di noi stessi analogici più accurata possibile per tantissimi scopi diversi che hanno sempre a che fare con il vil danaro se sei un'assicurazione vorrai avere informazioni su come guida il tuo assicurato se sei uno stato anti abortista vorrai avere informazioni sul ciclo delle tue cittadine perché casualmente da quando ha fatto swipe su tinder non al ciclo da due mesi quando ha comprato gli ultimi contraccettivi qual è il suo umore cosa mangia sono tutte cose che in potenza insomma ti danno un'immagine puntuale della persona che stai di fatto no neanche di fatto che stai monitorando non sto dicendo che sia sempre sbagliato se sei un negoziante e hai le tue telecamere per evitare che la gente rubi è normale che tu le metti hai il tuo circuito interno hai la roba che ti serve per tutelarti ma tutte queste cose anche solo se sono nella tua rete interna se succede qualcosa se qualcuno ti entra ci sono e quindi l'hacker li può prendere certo è un rischio molto basso ma se invece io ti parlassi di un circuito online con la telecamera che manda a un server i video così tu dall'applicazione li vedi anche quelli sono dati che se un hacker ci arriva può prenderli su guardare le persone nei video vedere quando e dove erano e fare un'attività investigativa e aggregare i dati aggregare vuol dire prendere i dati da fonti diverse della stessa persona metterle insieme così da avere un'immagine digitale più precisa della persona stessa e queste persone di solito sono i data broker che poi vendono queste informazioni magari anonimizzate ma aggregate però di solito non le anonimizzano a terzi per la profilazione massiva per proporti cose che siamo sicuri che ti piacciono eccetera eccetera Shoshana Zubov nel Capitalismo della Sorveglianza libro che tra l'altro consiglio dice che questo tipo di approccio crea un nuovo sistema di potere basato sul controllo del comportamento individuale perché in un mondo sempre più individualizzato dove anche questi dati possono servire a qualcuno per venderti qualcosa in questo neoliberismo che l'informatica ha tanto spinto vedasi il poverino nato nel garage ma che adesso ha i soldi quindi basta crederci tutte quelle minchiate lì non è quindi un concetto legato solo alle piattaforme ma è più un fenomeno sparso tra tutti in questo darwinismo sociale appunto questa cosa tra l'altro mi sembra di capire che negli ultimi anni complice anche la pandemia è arrivata alle orecchie anche di chi di questa roba non ne capisce granché e si fa a travolgere dalla narrazione mainstream che però adesso copre anche questo tipo di cose ma lo fa sempre in un'ottica di condivenza del potere quindi il problema sono i data broker che vendono i dati quando in realtà molto più terra terra il problema è il fatto che questi dati qualcuno li abbia e possa farne sostanzialmente un po' il bello e il cattivo tempo perché noi gli abbiamo detto di sì ed è un problema che ci portiamo avanti un problema sociale politico ed economico che ci portiamo avanti dall'11 settembre 2001 quando quell'evento ha creato uno stato di eccezione che poi ha permesso le infiltrazioni autoritarie in virtù della sicurezza e sia ben chiaro il punto non deve essere abbasso la tecnologia che schifo la tecnologia nuova che ci profila ma il punto deve essere chi decide che la tecnologia ci profila i proprietari della stessa quindi il grosso problema il grosso neanche problema il grosso punto la grossa questione a cui dovremo prestare la massima attenzione è il proprietario della tecnologia chi ne dispone può farne sostanzialmente quello che vuole ed è un po' il grande 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 tema che tutti gli informatici della vecchia guardia portano avanti il fatto che ormai sia un oligopolio per quello che c'è il digital service il digital market in Europa però sono arrivati adesso quindi prima che cambi qualcosa i nostri dati sono belli che persi e arrivando così tardi ormai alla gente non frega più niente ormai siamo assuefatti da questo modello ci va bene perché funziona così è sempre andata così e i dati sono sempre andati in giro alle aziende perché se un prodotto è gratis il prodotto sei tu quindi non ci posso fare niente sto comunque sulla piattaforma OpenAI gira tutto internet con i crawler per avere la miglior large language model di tutte e alla fine chi se ne frega non ho niente da nascondere insomma bla 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 facciamo per un attimo l'avvocato del diavolo questa profilazione può avere dei risvolti positivi considerando le origini dell'informatica quindi che ne so essere utilizzate in modo etico e a beneficio di tutti un vantaggio per migliorare le conoscenze di noi stessi come natura umana e poi aiutare a migliorarci certo in un mondo senza il capitalismo e senza i soldi perché nella configurazione attuale la tecnologia la profilazione tutto quello che ci gira intorno non ci sta aiutando ma ci sta ammorbando quindi invece che aiutarci ad affrontare noi stessi aiuta i proprietari a sfruttare le nostre vulnerabilità in modo che gli interessi di questi proprietari possono guidare il nostro modo di pensare il nostro modo di agire il nostro modo di consumare cioè pensate a facebook che implementa strumenti finalizzati a trovare la quantità perfetta di contenuti provocatori in grado di suscitare rabbia per far prosperare il bullismo le teorie complottiste i discorsi d'odio la disinformazione e altre cose però facevano restare gli utenti più a lungo sulla piattaforma e questo permetteva alla piattaforma di raccogliere più informazioni specifiche sulle persone sulle interazioni di fatto si stava sperimentando sugli utenti senza il loro consenso poi possiamo discutere su quanto siano morali i dark pattern però fattualmente perfino per le Nazioni Unite facebook è diventato uno strumento per diffondere l'odio vedasi la questione del Myanmar o anche gli ultimi sviluppi in termini di questioni internazionali però qui si tratta di un discorso ancora diverso e forse è meglio lasciarlo qui perché se no non ne usciamo più quando abbiamo un orologio smart quando abbiamo un telefono quando siamo dentro una piattaforma e siamo loggati noi non stiamo utilizzando i loro servizi e basta noi siamo cavie sfruttate dai loro servizi per migliorare i suggerimenti economici sembra banale dirlo ma anche quali storie scripiamo come scorriamo su quali post ci fermiamo a leggere i commenti sono tutte informazioni preziosissime che per noi sembrano una banalità una cosa che fai senza peso però di fatto sono delle metriche che guideranno in futuro i post che ci verranno riproposti quindi seppur da una parte noi ci sentiamo in piena libertà in pieno controllo della situazione non lo siamo ma vediamo cose vincolate dai nostri comportamenti passati questo però porta a mostrarci un pezzo di mondo che è solo un pezzo di mondo per come noi lo intendiamo quel pezzo di mondo non è la realtà delle cose poi vogliamo fare relativisti e dire che realtà non esiste è la somma di tutte le percezioni di tutte le persone del mondo va bene però noi vediamo un pezzo di mondo iper individualizzato che amplia e conferma i nostri pregiudizi e tutto avviene attraverso quella scatola nera che teniamo in mano e se tu a questi discorsi non ci pensi ma vedi tutto come normale perché ci sei abituato non è una colpa è come chi va al circo e vede gli elefanti andare sul monociclo in bicicletta come che fanno e si dice ah gli elefanti sono lì quello è quello che normalmente fanno gli elefanti poi dieci anni dopo va in un safari vede gli elefanti nel loro ambiente naturale e si dice aspetta ma quindi esistono altri tipi di elefanti che non fanno quella roba lì ma che sono anche più felici che casualità più o meno il discorso è quello e alla fine basta saperlo basta muoversi di conseguenza non è che è un dramma però è uno dei grandi punti che dobbiamo tenere in considerazione quando parliamo di internet perché internet ormai è questo e ora dopo questa botta di positività io mi fermo qui vi chiedo voi che ne pensate avete delle opinioni non siete d'accordo fatemelo sapere qua sotto nei commenti oppure nel gruppo telegram che trovate in alto in descrizione detto questo però io vi saluto vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata informatica mondo del web questo è tanto altro su occhio al mondo l'occhio attento a quello che ci succede intorno